Vuoi comprare l'aria? Tu o il suo? Dal momento che mi lasci scegliere, io preferisco al suono. Vuoi fare il gradasso, eh? Vediamo. Perfetto. Bravo. Non potevi scegliere un luogo migliore per il nostro sconto. Hai esaudito la mia richiesta. Ti ringrazio. Sei stato gentile. Credevano sapessi che sono un genio d'uomo. E anzi, dal momento che mi sei più simpatico degli altri, io decido di farti un favore. Che favore vorresti farmi? Mi impegno a combattere senza usare le mani. Ti fa bene? Le sei sicuro? Sei gentile a favorirmi. Molto bene. Dimmi, posso essere io a cominciare? Sì, non c'è problema. A comodo, che puro. Eh... Ho... 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 Grazie a tutti.